Un saluto a tutti voi cari telespettatori e ben trovati con l'appuntamento quotidiano con l'informazione locale su Catalan TV. In apertura parliamo del Palacongressi di Alghero perché sembra riaccendersi il dibattito sul futuro della struttura dopo le ultime dichiarazioni dell'assessore regionale ai lavori pubblici Roberto Froggia. Per ora ci sono 3 milioni per la manutenzione ma potrebbero arrivarne altri per rinanciare davvero il Palacongressi. Con i 3 milioni contiamo di rendere nuovamente funzionale l'area esterna. È il primo passo per far ripartire la struttura e pensare a una gestione per l'organizzazione di nuovi eventi. Quanto poi al corpo di fabbrica principale il discorso è più complesso e non si può prescindere da un dialogo sia con l'assessorato regionale agli enti locali e naturalmente con il comune di Alghero. Così l'assessore regionale ai lavori pubblici Roberto Froggia in un'intervista alla Nuova Sardegna su quella che è stata ribattezzata da molti una cattedrale nel deserto. Il dibattito sul futuro del Palacongressi è sempre d'attualità da un po' di anni a questa parte ma ora sembra riprendere quota dopo il recente impegno finanziario della regione. 3 milioni di euro di cui uno per la manutenzione ordinaria nel 2020 e due per quella straordinaria nel 2020 e 2021. L'ex sindaco Marco Tedde prende spunto dalle dichiarazioni dell'assessore e rilancia bene frongia sul Palacongressi di Alghero. Occorre ripensare le sue funzioni e spendere bene eccellermente i 3 milioni stanziati dalla regione nel novembre 2019. Tedde si dice convinto delle inversioni di marcia della regione dopo anni di abbandono della struttura e ritiene evidente che nello stanziare 3 milioni di euro la Giunta Solina si è iniziato un nuovo corso nel considerare il Palacongressi di Alghero che oggi ridiventa strategico per la promozione turistica e lo sviluppo del territorio. E lo stesso importo, ricorda l'Azzurro Algherese, che nelle finanziarie del quadriennio 2015-2018 lui stesso e l'allora collega consigliere regionale o di anno assessore di finanze Fasolino chiesero ripetutamente di prevedere con emendamenti mirati che furono allora respinti dal centro-sinistra. Questa somma, seppur importante, non è comunque sufficiente a rimettere nel ripristino Stato la struttura che in questi anni è stata completamente abbandonata a se stessa e vandalizzata. Secondo TED, i 3 milioni devono essere utilizzati per attuare urgentemente interventi per la messa in sicurezza del complesso e per arrestarne il processo di degrado. In tempi brevi, secondo l'ex sindaco, occorre ripristinare l'anfiteatro esterno che durante il periodo 2002-2011 ospitò eventi ed artisti di fama internazionale che la prossima estate deve necessariamente essere nuovamente utilizzato allo scopo. A seguire, occorre rendere funzionale la struttura, anche stanziando altre risorse, come è precisato da Frongia. Oggi, sottolinea TED, la struttura è uno scatolone di cemento armato che non è assistito da idee serie per il suo riempimento. Per svoltare seriamente occorre uscire dalla logica degli interventi di cosmesi politica che possono solo condurre a un fatuo imbellattamento. La politica locale e regionale deve pensare a un nuovo progetto di breve e medio periodo che ne preveda la rifunzionalizzazione e il riuso in ragione della vetustà e della antieconomicità degli obiettivi iniziali che oggi sono anacronistici e rendere tangibile quella multifunzionalità consentita dalle dimensioni e dalla ubicazione del Palacongressi. Non possiamo rischiare di sprecare ancora ingenti risorse pubbliche, sottolinea TED, richiamando la politica algerese tutta dalla maggioranza alle opposizioni che ha il dovere di coinvolgere il mondo delle imprese, le rappresentanze sindacali dell'associazionismo nelle scelte e nelle proposte da farsi alla Regione. Cambiamo argomento adesso, parliamo infatti dei recenti casi Covid perché la Sardegna è finita sotto i riflettori anche della stampa nazionale per alcuni focolai segnalati in particolare nel nord dell'isola, dati che nelle ultime ore sembrano comunque ridimensionarsi, non le polemiche invece. La caccia all'untore sembra non essere passata di moda. Nei mesi del picco del Covid la Lombardia era la Regione finita sotto i riflettori, ora la Sardegna, soprattutto per alcuni focolai scoperti nel nord dell'isola, in particolare in alcune località turistiche gettonate, famose per il mare ma anche per le discoteche. Il billionaire, una di queste, è inutile stare qui ora a parlare delle polemiche scatenate dopo le parole di Flavio Briatore, ora ricoverato in ospedale. Ma l'incremento dei casi degli ultimi giorni è stato ovviamente collegato anche al grande afflusso di turisti, soprattutto dal nord Italia. Venendo invece alla situazione locale, il sindaco Conoci è dovuto intervenire la scorsa settimana per mettere fine a una ridda di voci su presunti casi algheresi. Un solo positivo in città invece, ha dichiarato il primo cittadino. Situazione sotto controllo insomma, ma è chiaro che le notizie e le polemiche degli ultimi giorni hanno annebbiato, volutamente o no, l'immagine della Sardegna come Regione Covid-free. Tanto da spingere il Presidente del Consiglio regionale, Michele Paese, a chiedere un'assemblea straordinaria. La Sardegna offesa, contagiata e accusata, un fatto ignobile e inaccettabile. Evidente che è nata una campagna denigratoria nei confronti della nostra terra, volta a dipingerla come focolaio d'Italia, una cosa di una gravità inaudita. Evidente che il Consiglio regionale debba difendere la reputazione della Sardegna, dei sardi e dei tanti operatori turistici e fare luce su una vicenda opaca e inquietante. Insomma, staremo a vedere nelle prossime ore, anzi direi nei prossimi giorni. Chiudiamo la prima parte con la cronaca, perché è stato individuato l'uomo che lunedì pomeriggio ha aggredito una giovane donna che si trovava con il proprio figlio di tre anni sul passeggino. L'aggressione è venuta all'incrocio tra via Giovanni XXIII e via Manzoni. La giovane mamma aveva chiesto al conducente di un'auto di lasciare libere le strisce pedonali per poter attraversare. Dal mezzo è sceso il passeggero che ha sferrato un calcio al passeggino, quindi è colpito con un pugno la donna che ha fatto da scudo per proteggere il proprio bambino. Fortunatamente sono intervenuti alcuni passanti che avevano assistito alla scena, hanno bloccato l'aggressore, un giovane con problemi psichici, poi identificato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. La giovane donna, che ha rimediato un trauma contusivo facciale, ha sporto denuncia. Ci fermiamo ora per una pausa pubblicitaria. In apertura di seconda parte alcune comunicazioni dal Comune di Alghero perché fanno sapere che le scadenze per la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi mensa, scolastica e scuolabus sono state prorogate al giorno 8 settembre prossimo. Per informazioni ulteriori si possono contattare gli uffici competenti del Comune. Però è stata anche pubblicata la graduatoria definitiva del Bando per l'assegnazione dei contributi e l'integrazione dei canoni di locazione con l'esito dell'istruttoria delle istanze presentate per il riconoscimento dei contributi. Contestualmente è stato inviato ai singoli richiedenti un sms comunicando l'esito della propria istanza. Ulteriori informazioni relativamente alla data di liquidazione del contributo saranno comunicate successivamente. La graduatoria è consultabile sul sito istituzionale dell'ente. Per informazioni si può inoltre contattare il numero 370-126-8067 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. La graduatoria approvata costituisce il documento al quale il Comune si dovrà tenere nell'assegnazione dei contributi solo dopo e nella misura in cui la Regione Sardegna avrà erogato il finanziamento per il beneficio in esame. Non dà pertanto automatico diritto al contributo ma costituisce l'ordine di attribuzione dello stesso. Viaggia del retrubamento. 60 anni fa Alghero viveva una pagina storica che riscopriva il rapporto con la Catalogna. Sentiamo cosa ha rappresentato questo evento per la nostra città anche nelle parole del sindaco. 60 anni fa, esattamente il 25 agosto del 1960, la nave da crociera Virginia dei Ciurraca portò nella rada di Alghero 159 catalani in viaggio per incontrare nella nostra città i fratelli di lingua che stavano dall'altra parte del Mediterraneo. Almeno 15.000 persone giunsero da tutta la Sardegna e gremirono i moli, le banchine e i bastioni del porto di Alghero. La Virginia dei Ciurraca intorno alle 10 del mattino entrò nella nostra rada. Centinaia di imbarcazioni da di porto hissarono il Gran Pavese, le quattro barras e andarono incontro al bastimento. Scriveva così Antoni Simon Mossa nell'articolo intitolato Cronica del Cruer, Cronaca della Crociera, scritto in lingua catalana e pubblicato nel periodico algherese Renascenza Nova, Nuova Rinascita, nel gennaio del 1961. L'uviaggia del ratrubamento ha dato avvio a tutti quei proficui rapporti che sino ad oggi sono stati instaurati con i paesi catalani. Dal gemellaggio con le città di Tarragona, Palma de Mallorca, Encampe e Balaghe, per arrivare all'apertura della sede della Generalitat de Catalunya d'Alguerun nel 2009 e fino ai giorni nostri. Un avvenimento che ha costituito una tappa fondamentale della riscoperta della nostra identità e che ha spalancato i rapporti tra le due popolazioni. Oggi tutti noi abbiamo preso coscienza di questa ricchezza culturale e grazie alle tante associazioni che si occupano della promozione della lingua guardiamo al futuro con una prospettiva di consolidamento e di sviluppo delle relazioni. Ha commentato così ieri il sindaco di Alghero, Mario Conoci, questo anniversario speciale. Il coordinamento Precari Scuola Sardegna e il coordinamento regionale Sardegna dei docenti di musica e di strumento musicale comunicano che saranno presenti insieme ai docenti di tutta Italia la manifestazione nazionale per la scuola prevista a Roma il prossimo mercoledì 2 settembre è promossa per rivendicare sia una scuola sicura, innovativa e di qualità sia la stabilizzazione dei precari. La mobilitazione si articolerà in due momenti dalle 10.30 in Piazza Montecitorio e dalle 14.30 in Viale Trastevere di fronte al Ministero della Pubblica Istruzione. È necessario essere in tanti per far sentire la voce di tutti i cittadini interessati al buon funzionamento della scuola docenti, alunni, genitori. I sardi saranno in prima linea in questa battaglia in un manifesto ad hoc che vengono oltretutto spiegati in maniera approfondita e punti più significativi che hanno portato a questa mobilitazione. Chiudiamo il Tg con un appuntamento in programma questa sera alle 20.15 nel giardino del Museo del Corallo sarà presentata infatti la siloge poetica Poesias Algaresas della poetessa algherese Maria Chessalai la raccolta di versi in catalano di Alghero con affronte le versioni in italiano della stessa autrice è stata pubblicata in questi giorni da Editions dell'Alghe e contiene oltre a una sezione di poesie già edite i Fuls Retrubats le poesie edite rinvenute nelle carte della poetessa è venuta a mancare nel 2012 iniziativa organizzata in collaborazione con l'Obra Cultural dell'Alghe gode del patrocinio della Diputazione di Barcellona del Parco Naturale di Portoconte dell'Area Marina Protetta Capocaccia Isola Piana e della Fondazione Alghero a causa delle disposizioni anti-Covid chi volesse partecipare alla presentazione del libro deve obbligatoriamente registrarsi onde evitare code e assembramenti durante le procedure previste andando sul sito internet www.edla.it attivitats ed essere munito ovviamente di mascherina per oggi è tutto io vi lascio al meteo grazie per essere stati con noi e arrivederci